Sai quali sono i luoghi comuni del public speaking? Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera e sono formatore, coach, speaker radiofonico. Da qualche anno sono anche il presidente della delegazione del Lazio e di AIF, associazione italiana formatori. Nel public speaking ti dico la verità, parlando con le persone, leggendo articoli, magari pure qualche libro, trovo spesso alcune frasi che sono un po' dei veri e propri luoghi comuni nella comunicazione efficace in pubblico. E mi sembra giusto allora dedicare uno spazio all'interno del mio canale, ah è attraverso un video, su quelli che sono un po' i principali luoghi comuni, anche per spazzarli via o quantomeno per mitigarli e moderarli rispetto a quello che è invece secondo me la realtà. Bene, il primo di questi luoghi comuni è il public speaking è un talento e non è una capacità. Quindi sostanzialmente nasci già con la capacità di parlare in pubblico, non la puoi acquisire. Beh io direi invece che certamente il public speaking è una capacità. Sicuramente può essere utile, importante la cosa di avere questa sensibilità, questa attitudine, no? Ci sarà un motivo se io a 5 anni e mezzo mi racconta mio padre che durante il matrimonio di un suo cugino, in grosso modo, insomma meno di 6 anni sicuro in provincia di Foggia, salì sul palco durante una pausa della performance della band, mi sono messo lì, ho fatto come fanno i cantanti, quelli professionisti, chissà dove l'ho mai visto, parliamo del 1970, 1971, quindi non c'era YouTube, non c'era niente ovviamente. Faccio così per fare la prova a microfono e comincio a cantare da solo, a fare una performance canora con il microfono, Yellow Submarine dei Beatles. Probabilmente quella era una mia attitudine, un mio desiderio, una mia speranza, una mia passione che emergeva fin da piccolo a esibirmi in pubblico e quindi a stare di fronte a un pubblico. Questa è certamente un'attitudine, tuttavia come dice Dale Carnegie in un libro che è dei primi anni 60 ma che ha un successo ancora adesso sul public speaking, tra l'altro trovi anche tutta la mia presentazione di questo volume all'interno di questo canale, per cui ti suggerisco di andarlo a rivedere, tutti possono davvero imparare a parlare in pubblico, quindi sì c'è un'attitudine, c'è una sensibilità, ma tutti possono realmente imparare a parlare in pubblico, anche per sviluppare quelle che sono le proprie potenzialità. Poi, secondo luogo comune, il public speaking è importante solo in alcune circostanze. Beh, io direi che comunicare con efficacia in pubblico è importante sempre. Stai facendo una presentazione di fronte a un certo numero di persone, ti hanno chiamato per un evento aziendale a dover stare su un podio e a parlare di qualcosa in particolare, una tua idea, un tuo progetto, una tua proposta. Devi presentare una proposta in un contesto di riunione all'interno del tuo gruppo di lavoro o nei tuoi affari. Devi parlare a una riunione di condominio e devi parlare in modo ripersuasivo. Beh, io direi che veramente hai sempre la possibilità di esercitarti e soprattutto parli sempre in pubblico, perché poi tecnicamente, parliamoci chiaro, pubblico può essere anche un pubblico molto ristretto, due o tre persone già sono pubblico tecnicamente parlare. Poi, per carità, è chiaro, c'è una differenza tra io che salgo sul palco, sto dietro un podio, parlo a 50, 100, 200 persone e un conto è parlare in un ambito di riunione. Ma intendiamoci, l'effetto arena c'è sempre e quindi è importante considerare questo. Quindi, utilizza ogni circostanza per allenarti a parlare in modo persuasivo agli altri. Poi, alcune persone, un altro dei luoghi comuni, sono naturalmente predisposte a gestire meglio lo stress e quindi l'ansia di parlare in pubblico. Allora, questo in parte è vero, ma è altrettanto vero che tutti, anche quelli insospettabili, hanno e mostrano in certe circostanze una tensione a parlare in pubblico. La tensione più che mostrano la sentono, che è una cosa un po' diversa, perché magari io posso vivere la tensione e la vivo effettivamente, anche se non dare poi nessuna impressione all'esterno. Capita anche a me, e penso che qualche oretta a parlare in pubblico l'abbia spesa nel corso della mia vita. Ci sono circostanze, ci sono situazioni che magari mi fanno sentire quel friccicorio, come dico sempre, friccicorio tipica locuzione romana, stante indicare una certa ansia da prestazione, una certa emozione, come dico sempre, la notte prima di un corso di formazione che faccio per la prima volta, quindi non conosco nessuno, magari non conosco nemmeno l'azienda, non ho già lavorato con questa azienda, con questa organizzazione, io dormo sempre con fatica. e ti dirò che questo è il segnale per me che mi permette di capire che sono concentrato, sono focalizzato. Certo, posso sperare, magari nel corso del tempo, ma ormai sono arrivato a 57 anni, quindi la vedo un po' difficile, di riuscire a superare questa situazione di tensione, ma so che questa tensione è qualcosa che mi serve per concentrarmi. Il punto non è provare la tensione, il punto è come la gestiamo, perché se noi ci facciamo prendere dal panico, come accadde al famoso regista Michael Bay, e questo è un video che trovi su YouTube, ma ne ho parlato anche nell'ambito di questo canale, anche in questo caso, quindi ti invito a trovare questo video per andartelo a vedere, beh, in questo caso viene colto dal panico e quindi alla fine non riesci proprio ad articolare una parola, tant'è vero che lui, perso nel suo panico, decide di andare, decide di abbandonare. Altrimenti il punto non è se provare o meno questa tensione, ma come la gestiamo, questa fa tutta la differenza del mondo. Altro luogo comune, per parlare in pubblico devi essere perfetto, per parlare in pubblico devi essere autentico, devi essere autentica, questa è la cosa importante. Ora, lo slogan, sii te stesso, sii te stessa, lo trovate in tutte le salse, anche nelle pubblicità, quindi lasciamo stare, ma al di là di questo, essere autentici è forse l'unico modo realmente per bucare lo schermo, ma anche, se parliamo in pubblico, per arrivare alle altre persone. Quindi si tratta di lavorare su quello che è il proprio stile. Io personalmente farei una fatica enorme a cercare di assomigliare a qualcuno e a fare qualcosa che non è nelle mie corde. Farei veramente una grandissima fatica, come dico sempre in aula, durante i corsi, è come se volessi di punto in bianco l'estate andare in giro col vestito di pelle senza niente sotto. Farei schifo, ma veramente? Allora forse è meglio che metto dei vestiti che sono più adatti alla mia mese e magari sembro pure garuccio. Ecco, lo dico alla romana, no? Questo che può essere un po' più chiaro. Quindi essere autentici è davvero fondamentale nella comunicazione, non solo nella comunicazione in pubblico. Poi, parlare in pubblico è una questione delle parole che dici. È vero, in parte, perché le parole che dici devono essere necessariamente accompagnate anche da una modalità. Ricordiamoci sempre che gli elementi della comunicazione in pubblico, ma gli elementi della comunicazione in generale sono tre. Comunicazione verbale, le parole che dico, il contenuto, la comunicazione paraverbale, quindi tono, timbro, volume, registro, impostazione della voce, musicalità, pause, silenzi e quant'altro. Qualcuno definirebbe il suono della voce. Terzo elemento, la comunicazione non verbale, il linguaggio del corpo, postura, proscenica, espressione del viso, gestualità e così via. Questi tre elementi sono ovviamente tutti e tre importanti, ma il modo con cui articolo le mie parole, e quindi contenuti, è certamente un elemento importante, senza le quali le parole, anche le più belle, le più perfette, perdono valore e magari sembreranno non così belle, non così perfette. Ultimo punto, e questo non è un luogo comune, ma un superamento del luogo comune, senza dirti qual è il luogo comune, ricordati che nel public speaking non sei importante tu che parli, sono importanti le persone che ascoltano, quindi è come ti connetti alle persone che ascoltano che fa la differenza. Quindi questo se vuoi non è tanto un luogo comune quanto una raccomandazione finale. Quando parliamo in pubblico, noi siamo sempre concentrati e tutto sommato l'attenzione delle persone è concentrato su chi sta parlando. Noi che stiamo parlando ci dobbiamo ricordare invece di chi sta dall'altra parte e che ci sta ascoltando, perché sono loro che sono davvero l'elemento di maggiore importanza in tutto il contesto in cui avviene la comunicazione. Bene, se ti è piaciuto questo video ti ricordo di iscriverti al mio canale e di attivare anche la campanella per non perderti alcun aggiornamento. Inoltre, ti ricordo che sul public speaking e sulle presentazioni efficaci ho realizzato dei videocorsi, nella descrizione di questo video trovi anche tutti i link per informazioni e anche per acquistarli direttamente. Inoltre, per interagire con me, attendo due notizie a breve, quando vorrai, ovviamente se vorrai, ti ricordo la mia pagina professionale Facebook, il mio profilo LinkedIn e anche il mio sito stefanocera.com. Da qualche giorno, diciamo un mese, un mese e mezzo, ho attivato anche un podcast che trovi su Spotify e altri provider, in questo senso troverai nella descrizione anche il link. Bene, a questo punto continuo a navigare sul mio canale YouTube per trovare altri video su public speaking e ci rivediamo al prossimo.